E' finalmente online il mio shop, potete comprare le felpe, le magliette con il mio logo o quello di mia sorella che ho appena creato e anche le cover, link in descrizione Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale in questo nuovissimo duello di Yu-Gi-Oh Oggi sono contro Black Zeros, eccolo qua, in un nuovissimo duello di Yu-Gi-Oh dal vivo, io userò il deck Garunix Io e Cos Drago Esatto, adesso vediamo un attimo, diamo una veloce mescolata dato che abbiamo già mescolato prima per non farvi perdere tempo e godetevi questo nuovo duello Questo dovrebbe uscire sabato, che numero? Non so che numero sia sabato, comunque alle 2, quindi di solito faccio uscire i video alle 2 Alziamo i mazzi, no al dado, alziamo i mazzi e vediamo chi inizia lanciando i dadi, un dado 3 Ok, 2 Inizi tu Ok, col Garunix a iniziare, forse non è al massimo, però vediamo Posiziono il posto coperto in posizione di difesa, posiziono una carta coperta e passo Mano non troppo buona Pesco Allora ragionando, devi dire il livello di un mostro Ok Disfruttare un cartello al deck finché non esce un mostro che può essere evocato normalmente posizionato Sia di quel livello lo mando al cimitero con tutto il resto Sia di quel livello lo evoco, mando il resto al cimitero 3 Caos, dragona già detto Evoco speciale, posizione di difesa Ok Moschi infami Evoco radin, effetto, mando le prime 2 carte Ok Guadagna 200, 1.900 Sia, 200, 1.900 Ok Poi 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 Fascino Ok, pezzi 2 carte Poi vendisco l'oscurità da una mano Altrimenti Tutta la carta al cimitero Tutte le mani al cimitero In maniera Infatti lascia le scoperte e fai tipo le bandite di invece che coperti del cimitero Perché Carta coperta Evo con luce pulsar Mandando un mostro luce in oscurità Ok Dal cimitero Sì Questo effetto qual è? Allora Lo posso evocare dalla mano Mandando un mostro luce in oscurità Ok Bandendo No scusami Bandendo un mostro luce in oscurità Dal cimitero mandando dalla mano un mostro luce in oscurità Ok E se viene distrutto Mi sembra distrutto in generale Se viene mandato al cimitero C'è un messaggio in mostro luce in oscurità È tipo drago Nivello 5 superiore Nel mio cento E lo evoco speciale Ok Vai Poi allora 3, 6, 2, 8 Ed evoco Allora Sì dovrei fregarti La mia mano non è stata delle migliori quindi Polvere Ok Facciamo Tiriamo tutto un po' indietro Ok Sì Non mi ricordo il suo effetto Eh Siccome avete dato l'effetto la carta magia trappolo mostro Che distrugge una proposta sul terreno Offre come tributo Devo offrire come tributo Per non andare Non lo distrugge Poi è in pace È in pace giusto Sì beh Carta magia carta trappolo L'effetto di un mostro con effetto Che distrugge una privata sul terreno E distrugge E distruggere quella carta Se non lì un effetto in questo modo Prevo carta tramite evocazione speciale Questa carta è al tuo cimitero durante la phase Forte questo Ok Lui ho 1.9 Allora 1.9 1.9 Si distrugge Non posso attivarlo Devo avere un altro mostro fuoco al cimitero 2.5 Subisse Sono a 5.500 Ho pescato Io per l'effetto E io per l'effetto Mando le prime due Ok Allora Allora Le magie Le sposto E le metto qua Con le carte bandite Perché se no qua Per vedere i mostri Mi viene Una fila Metti sopra Allora separa le proprie Dalle bandite Ok Cioè mettile qua tipo messe così Così messe esatto Cioè i mostri che le magie così Per far capire che ho adesso delle magie al cimitero Poi Attivo decretoriale Attivo Assalto del re del fuoco Si controlli un mostro Posso evocare specialmente Dalle deck C'è nessuno Ok Un mostro fuoco I suoi fatti sono annullati È diventato buio Allora Si te lo annullo Offri come tributa E va al cimitero Si distrutta Ok Va bene Attivo già la della dualità Allora Pesco No non pesco Guarda tre carte scusate E ne scelgo Devo vederle Tra le tre si devi vederle Ne scelgo una Scelgo questa La faccio vedere adesso Alla camera Si si Ma si la puoi toglierla Tanto non è che si vede Ok Ho scelto la camera Mi faccio vedere Si adesso mischio un attimo Guarda Questa è la carta che ho scelto Delle tre C'erano tre carte Poi spero si siano viste Comunque mischio E poi lui alza Non posso evocare specialmente Nel turno in cui ha attivato Giara Per il suo effetto Qua scusate se ci sono Dei cambiamenti di luce Ma stiamo usando La luce naturale Quindi non Siamo un po' In una postazione Di D'emergenza Tra vir Non d'emergenza Più che altro Diversa dal solito Non la solita Come potete notare Carta coperta Per i più vecchi del canale Si ricordano Questa tovaglia Sarà Cioè se si vede bene Nel video Si dovrebbe vedersi Per chi Veramente vede Ha visto i vecchi vecchi video Del canale Dovrà riconoscerlo Comunque Non posso evocare Intanto i cambi di luce A caso Non posso evocare specialmente Ricordo che non può fare Cosa con le carte trappole Lui si Drago polvere di stella Si rievoca Quando passi Ok Lui ha millenove per sempre No è già a mille e sette ora Ok Che dovrebbe essere Evoco No fino alla fine del turno Il tuo avversario Non l'ho visto Mostro coperto in difesa E passo Ok Si evoca Pesco Non è più un millenove Un mille e sette Attivo l'effetto Mando due Eh io sono messo Veramente malissimo Cioè poi il decreto reale È fastidioso Però Boh Devo vedere Mostro coperto Mille e sette Mille e sette Duemila e cinque Altri duemila e cinque No Bandisco dal cimitero Contrattacco Subisco Duemila Subisco duemila Cinque mali Subisce anche te Quindi tu sei a Tre mila E io sono a Cinque 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 Passo Alla metto un attimo Le robe così Almeno Ci sono Qua le mie sono bandite Le mie carte bandite Sono qua Pesco Allora E qua Fa Veramente il problema È un bel problema Se vai avanti così Sono fregato Veramente molto Cioè sono bloccatissimo Non posso fare niente Sono bloccato Ah scusami Mi stavo dimenticando Di far cosa Lui ha mille e sette adesso Però sono bloccato Completamente Ho avuto una mano monotona E Non lo so Al massimo poi facciamo un altro duello Assalto delle del fuoco A lungo Ovviamente E vabbè Carta coperta e passo Pesco Si rievoca Si rievoca Attacco Attacco Vinto Peccato Facciamo subito un altro duello E vediamo un attimo come andrà Magari avrà una mano migliore Tutto di fila Comunque Ha vinto il primo duello Quindi spero si vedano I life points giusti Sotto Sotto impressione Però in realtà è sovra impressione Perché si vede sopra E va bene Usiamo gli stessi mazzi Poi faremo altri duelli In altri video Lanciamo i dati Per vedere chi inizia Dopo poi alziamo Quattro 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 Lancio il tuo adesso Cinque Cinque Uno Ok allora inizi te Perché ho il Garunix Cinque carte Tocca te iniziare Devo smazzare Giusto Grazie Ok inizi te Ok allora Lascio un po' indietro almeno Abbiamo lo spazio per il link E le cose bandite Sì Allora vai Sicuramente Carica della brigata Mando le prime tre carte Aldeca al cimitero Maggiù il confedele Mi aggiungo Lumina Ok va bene E richiarica solare Scarto Rico Lascio due carte Mando le prime due Ok Forse Garunix Si rievoca Dato che è stata mandata La deck al cimitero Forse Garunix Conto questo deck Non è abbastanza Poi Prima ti ho fermato così Eh quindi Conviene rifarlo Quindi evoco Ovviamente Con la stessa carta Lumina Effetto di Lumina Scarto una carta Ed evoco specialmente Raiden Ok Effetto di Minerva Se queste carte le abbiamo date Dato la tua mano Decca al cimitero Mando la prima carta E tu dec al cimitero E mi frega sempre così Secondo il caos Ok Poi attivo l'effetto di Bulbo Luminoso Quella mi capita mai La carta principale Per far girare L'ho già attivato Non mi ricordo Si bulbo luminoso Ando a aprire la carta Decca al cimitero Specialmente Aia L'effetto una sola volta Per duello Poi viene bandito No Il resto è cimitero Solo una volta per duello Ok E il zoom montore Viene bandito Faccio 1 4 8 Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 Dai due tuner Non puoi usarli Se devi fare un sincro Grazie Allora uso Wolf Ok Per correttezza Facciamo così Dato che stiamo usando Le regole link Ok Ancora quello di prima Va bene Cosa fai? Non puoi attaccare Passo Pesco Mando dopo all'effetto Di radio In effetto Carta cimitero Perché c'è stato Mandato in questo turno Dovente Lampese Oggi giro Mostro oscurità Tipo demon Di valo 3 D'altro deck Alla mano Ok Quindi mi aggiungo Lampese Va bene Comunque Vedatore in modo sotterraneo Carta coperta Posiziono Mostro coperto In difesa Nozza Sì Mostro coperto In difesa Passo Costretto Le mie mani Non sono troppo buone Pesco Sono un po' Messo marino Direi che qua Posso ridurre Metto una carta coperta Attivo l'effetto Di Raiden Mando 2 2007 2005 Quando questa carta Viene distrutta in battaglia Mandata al cimitero Puoi aggiungere un mostro Con difesa 200 Dal tuo deck alla tua mano Ovviamente Mi aggiungo Del fuoco Avatar Kirin 2005 Subisco 2005 Sono a 5500 Passo Mando 2 Pesco Aia Che dolore Evoco Attivo Decreto reale Metto qua nell'angolino E non ci sta Di più Evoco Re del fuoco Avatar Kirin Normalmente Quando viene mandato Al cimitero Può Mandare dal deck Al cimitero Mostro Cos'è Mostro Fuoco Mostro fuoco Bene Evoco Specialmente perché controllo Mostro fuoco Poi devo offrirlo Devo distruggerlo E per il suo effetto Si attiva Mando un mostro fuoco Dal deck al cimitero E mando Garunix Ma non ho capito Può farlo solo Se viene mandato Al terreno Al cimitero Sì Infatti non si rievoca Nel duello precedente Hai attivato il suo effetto Però non stava Per distruggere Una più carte Che controllavi Si la carta Ho attivato Che controlla anche tu Non che controllo io Assalto del re del fuoco Non distrugge nessuno Si Durante l'impresa Lo distrugge Proprio come ho tenuto Questa carta Per l'attivazione Di una carta Magia trappola L'effetto di un mostro Con effetto Che distrugge Una più carte Sul terreno Distrugge E c'è scritto Che distrugge Non lo so Vabbè Comunque Cosa stavo dicendo Andato al cimitero L'ho già evocato Normalmente Si C'è decreto reale Attacco 2200 Lui Perdo 500 Sono a 7500 Esatto Poi nella minefield 2 Attivo cerchi del re del fuoco Annullo l'attivazione Ok E lo distruggi Eh Fatto anche male Passo Si rievoca Pesco Poi Uno Due Tre No Quattro Ho sbagliato Cerchi del re del fuoco Devo attivarlo Nel suo turno E allora Devo posizionarlo E attivarlo Attacco Trecento Sono a 5200 Passi Si Pesco Posiziono un mostro coperto In difesa Carta coperta E passo Pesco Sono stato stupido Carica della brigata Mando le prime tre Ho sbagliato tantissimo Fedele Effetto Se questa carta Le ho mandato al cimitero Avevo specialmente Il mostro bistro bruciante Dal deck Direi che Dal deck Hai detto dal deck Hai detto dal deck Dal cimitero Hai detto dal deck Non so Invece Si deck Lui Dato che controlla il mostro Con un abisto bruciante Si distrugge Ok Devi prendere un fedele No? Si Devi guardare già adesso Allora Illumina Effetto di lumina Scarto Di tour Evoco wolf Non può essere Locato Normalmente Utzionato E' essere Locato Specialmente Ad effetto Una carta In questa carta Viene mandata La deck In te E' evocata Specialmente Locata Per effetto Di lumina 1000 Distrutta 2100 2005 Ho vinto No Non ho vinto Solo Per il 2005 Bandisco Un controattacco Vulcanico Ok Quindi subisci 2005 Anche te No ma non controlla Ah no Il cimitero si No Ok si A cimitero si Su amici 2500 Allora lì sono 5000 Io sono 1600 Passo Mandò 3 Pesco Corro che qua c'è E lo so Infatti Con quel deck Contro il caos drago Il lagaronix Già fa schifo di suo Contro il lezzo Forse farebbe qualcosa Ma contro Vabbè grazie Il lezzo Infatti il mio fa schifo Non è che Lezzo solo per i deck Scarsi Infatti Questo è scarsa 800 800 Ma niente Di che 4200 Passo Nel tuo turn Un attimo Per chiudere del fuoco Scegli come bersaglio Un mostro fuoco Che controlli Un mostro fuoco Nel tuo cimitero Distruggi Quel mostro Che controlli E se lo fai Specialmente Sono un cerchio del fuoco Per turno E si attiva l'effetto Di grunix Si evoca Vabbè evoca Evoco garunix Bene Mi vieni sotto Dall'effetto di una carta Nella stand by face Dopo Questa carta è stata distrutta E mi ha gridato Dall'effetto di una carta E mi ha dato al cimitero Aggiungi una carta A re del fuoco E dal tuo deck Alla tua mano C'è la re del fuoco Avatar barong La metto qua separata Perché Se no poi mi diventa Allora bandisco Mostro luce Allora lo faccio dopo E un'oscurità Evoco lui Effetto bandito Attacco attacco vinto Pazienza Questo mazzo Non va bene Dovevo farti Carigare l'unix Per Eh ma questo mazzo Già due mani orrende Mi sono capitata Così magari Isperare Nella vittoria Ma devo fare l'unix Per farti Isperare Nella vittoria No ma ti dà Non spero Non ti dà Questo deck Non va bene Per questo video è tutto Vi ricordo Vi lasciare un bel mi piace Commentare Condividere Iscrivervi Iscrivervi al canale Ciao a tutti Ciao Ciao